Massimiliano, fanese doc e conosciuto da tutti come Mimmo, vive in Irlanda ormai da 20 anni e da circa due settimane è tornato nella città di Fano. Non ha mani vuote perché ha scritto una poesia in dialetta fanese per dedicarla ai tuoi amici. Sono i ragazzi del porto, in questo caso Massimo Marini detto Nason, sono sempre stati carini con me quindi mi sembrava il caso di fare una poesia per fare due risate anche perché comunque sono ragazzi simpaticissimi. E come l'ha intitolata? L'ancoretta, perché l'ancoretta sarebbe questa cosa qui che voi vedete che lui mette al materassino. Un obrobrio però ecco, giusto per ridere. Per mantenere fermo il materassino in acqua. Il materassino in acqua, sì. Sentiamo questa poesia. Posso? Prego. Allora, l'ancoretta. In quel cielo e anche in quel mare dove io so fatigare. Tu direi, perché fatighi? E come no, in solo urtichi. Che sta al sole e il giorno e la notte, il lavoro, solo che sto zotta. Sotto in mare, ma mai da sola. Sto saluto e mi consola. Che marco ora e mi sfavilla. Come l'or fa una scintilla. Lui chi è? Ma è Nason. E' il numero uno della situazione. Che da quando i suoi fiolini mi attacchiamo il materassino. Prefere sentire che sia importante e non fare con tutti quanti. Oh Nason, quanta ringrazio. Desti giorni estivi e belli. Vuoi sapere, però senza inganni, una cosa del Sor Gianni. Lui, buon uomo, che mai osa. Ma perché in tutti questi anni mai hai comprati queste casse di rosa? Perché è una terassina rosa. Una roba spaventosa. Dice che il vedo c'è le traveggol. Che d'arriva chi ti vede, di sicuro è che spaventano. Ma Nason, amico mio, sta cerendo, ti tengo io. Tu che dormi bel beato, io di sotto ho ancorato. Bel beato senza fini, come i veri giuventini. Capirai. Non con me che sto di sotto, come a lei fa la leotta. Ma in tuo mare del paradiso, luccicante col sorriso. De chi sa che se è ancora rata, ma la plastica ha fatata. Che te culla senza grill. Lontan dalla moglie strid, dai patemi sempre accesi. Mamma mia, mi porti a Iesi. Perché lui è andato giù a Iesi per il verdicchio. C'è il portato da Balderin, che sarebbe lui. Tocca l'ho, ma il materassino. Fai sentire come io mi sento tutto il giorno, senza pentimento. Tu da sopra la sua invedetta. I stai cassa sull'ancoretta. Va ben cuccia da mangiare. Perché ora è la fine. La suggestiva di invertire. Butta via tutti i pensieri. Che la compagna sta rostita. Aspetta, questo è il pezzo più bello. Stas a me, io ti tradisco con la gente che impulisce. E impulisce perché non vede. Ec perché io e te, sì. Neve. Neve. A testimonianza, firma del Nasone. Firma dello Stato, Michele Giulini. Firma con sigillo del Presidente Balderin. Massimo Pesca, ambasciatore d'Irlanda, sarei io. Il materassino, grazie. Buona estate, ragazzi. Ciao. 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 Grazie.